ma salve a tutti vi aspetto un corso picco 56 nella bella torino il 28 settembre ore 18 all'inaugurazione della palestra del mio amico personal trainer dei vip romano petrucci con lele mora la sottoscritta senti scusami se vi ruban mi fai una cortesia ma romano siamo sicuri che mi fa con gli esercizi diventare come te col decoltè o no perché guarda se no niente 1 2 e ci sarà anche Viviana Bazzani vi aspetto numerosi